Se gli editori e i librai non si ribellano con forza a questo sistema, per cui appunto in libreria se io entro e chiedo un libro che è uscito tre mesi fa non c'è più, sono destinati a perire, io penso che l'editoria e le librerie periranno in questo modo e dico con amarezza non possiamo nemmeno rimpiangerle perché se si erano ridotte così non c'è da rimpiangerle. Adesso ho messo a una amara legge storica che quando le cose scompaiono sono prima state fatte decadere, trasformare, come è venuto con l'università, io ho insegnato un po' di anni nell'università e l'università era diventata qualcosa che meritava di finire, ricordo ancora i presidi di cui potrei fare i nomi, tutti fieri di dire la nostra vita è che la nostra università è un'azienda produttrice di servizi culturali, non so che cosa intendesse quali servizi intendevano, fatto sta appunto che se le università oggi vengono smantellate appunto la doppia amarezza è il fatto che non possiamo rimpiangere perché erano già prima di essere smantellate avviate alla morte, con questo cerco imprenditoriale pseudoscientifico che non ha nulla a che fare con la nostra scienza. Come vedete mi metto a parlare delle situazioni politicamente difficili che viviamo e siccome questa situazione non concerne certo soltanto l'editoria e l'università ma per esempio concerne anche lo stato, le forme stato in cui viviamo, non credo che tutti siano consapevoli del fatto che noi viviamo in una forma stato che non ha assolutamente nulla a che fare con quello che eravamo abituati a chiamare con questo nome, non soltanto è ovvio non ha a che fare con quello che significava la parola democrazia, la tradizione del pensiero politico, ma non ha nemmeno a che fare con lo stato di diritto con cui crediamo, la gente ancora crede di stare vivendo. Noi viviamo in una forma stato che i politologi americani definiscono security state, stato di sicurezza. Ci mancano le parole, ci mancano le analisi per definire cos'è questo stato di sicurezza, che è una nuova forma stato. Proverò brevemente a indicare almeno tre caratteri fondamentali di questa forma stato in cui noi viviamo. Il primo è una cosa molto semplice che è proprio un video nella formula sicurezza. Nella tradizione politica occidentale, da Hobbes in poi, lo stato era ciò che doveva mettere fine alla condizione di paura in cui si trovano i cittadini, quella che si chiamava la guerra di tutti contro tutti. Tutto lo stato nasce per porre fine alla paura. Lo stato di sicurezza, al contrario, si fonda sulla paura dei cittadini, deve intrattenere la paura dei cittadini. E quindi, come è evidente, se uno ha un minimo di attenzione a quello che succede, anzi, fa sistema col terrorismo, per esempio. Non è stato fa sistema col terrorismo, ha bisogno del terrorismo. Ha bisogno del terrorismo per poter garantire e assicurare la sicurezza. questa formula, per ragione di sicurezza, for security reasons, che sentite a ogni istante ripetere, dovunque, perfino in treno, è una cosa molto profonda. Esprime quello che in tempo si chiamava ragione di Stato. La ragione di Stato oggi è una ragione di sicurezza. E questo è uno dei primi inquietanti aspetti dello stato in cui viviamo, perché sarà sempre più così, sempre più faranno sistema Stato e terrorismo. Lo Stato dovrà intrattenere il terrorismo, perché se poi non ci sono altri terrorismi, come si fa a fare una politica di sicurezza? Il secondo punto è un cambiamento, invece, della condizione dei cittadini, nello statuto politico dei cittadini. La democrazia, come sapete, forse è data in Atene nel V secolo, tra il V e il V secolo, attraverso un fenomeno che potremmo chiamare una politicizzazione della cittadinanza. Cioè la figura del cittadino acquisiva una forza centrale, lasciata in ombra a tutte le altre appartenenze, a congregazioni religiose, economiche. Insomma, il cittadino diventava la figura del cittadino. E questo definiva appunto la partecipazione attiva alla vita politica. Ecco, noi stiamo attraversando nel Stato di sicurezza un fenomeno contrario, cioè di depoliticizzazione. Quello che era Stato politicizzato adesso viene progressivamente depoliticizzato, finché il cittadino diventa appunto un elemento totalmente impolitico, la cui partecipazione alla politica eventualmente si manifesta solo nella partecipazione al sondaggio elettorale che è un sondaggio, non ha nulla di espressione della volontà. Anche questo è un fenomeno molto sinistro perché per esempio era stato teorizzato dai giuristi nazisti. I giuristi nazisti concepivano il popolo, il folk, come l'elemento impolitico di cui il partito deve garantire la pace, la vita materiale, la vita biologica. E così oggi non siamo per questa via, non lo Stato considera i cittadini come così un elemento impolitico, anche molto fastidioso. Ricordo i funzionari tedeschi che dicevano, ma se adesso noi dovessimo permettere al voto della gente di cambiare la nostra politica, ma sarebbe assurdo, inconcepibile per la Grecia questo è successo. Un'altra cosa, un altro terzo punto, è il declino della certezza del diritto. Ciò che più colpisce, però anche se i giornali normalmente lo nascondono, lo fanno vedere, cercano di impedire che la gente se la renda conto, tutti i comunicati ufficiali sugli attentati terroristi che sono successi per esempio in Francia, altrove, è la rinuncia assoluta alla ricerca della verità giudiziaria. Noi siamo sempre stati abituati che non si può considerare qualcosa come un reato oppure identificare un colpevole se non c'è un procedimento giudiziario che accerta le responsabilità. Ora nel terrorismo la partecipazione della magistratura è esclusa. Per esempio in Francia non è mai avvenuto che ci sia un'inchiesta giudiziaria su questi fatti. Questo è il rovesciamento dell'idea di uno stato di diritto, mentre in uno stato di diritto non si può accertare un colpevole se non c'è un'inchiesta giudiziaria, i comunicati di polizia o a volte addirittura di giornali prima della polizia. Ci sono stati casi per esempio in Francia in cui prima c'è stato il comunicato del giornale a cui la polizia lo aveva fornito e dopo il comunicato di polizia. Quindi viviamo in una condizione per l'essenziale di assoluta incertezza del diritto. E questo è tanto più evidente se considerate che uno stato con una tradizione politica così importante come la Francia vive da otto mesi, dico otto mesi, in stato di eccezione. L'unica volta in cui questo è avvenuto nella storia europea, in tutta la storia europea dalla fine dell'ottocento ad oggi, è nella Germania di Weimar, prima che Hitler prendesse il potere. Solo nella Germania di Weimar c'era stato un uso, un ricorso così forte e violento allo stato di eccezione, per cui quando Hitler ha preso il potere la gente ancora fa questa domanda in genere, ma com'è Hitler che mostra, com'è potuto fare quello che ha fatto? Hitler non ha dovuto fare nulla perché la Germania è stato di eccezione e Hitler non ha fatto che prolungare lo stato di eccezione. Quindi tutto quello che è avvenuto in Germania, toglietevi dall'idea che era illecito e illegittimo, era perfettamente legale. Così come qualunque cosa avvenisse in Francia oggi in stato di eccezione, anche se qualcuno uscidesse, è perfettamente legale. Uno stato europeo è da otto mesi in stato di eccezione e tutti lo trovano normale, i deputati lo votano, quei criminali dei deputati francesi che lo votano, i giornali trovano che è giusto, tutti sanno che non serve nulla, un atto di terrorismo non è così che si previene, il terrorismo è sempre un primo colpo, non si può prevenire. Ecco, vabbè per dirvi in che situazione ci troviamo, qual è la situazione dell'Europa in cui viviamo. Tra l'altro la gente crede per esempio che l'Europa sia una cosa, non so che è buona, anche se nessuno sa nulla, per esempio nessuno, sono sicuro che non è la sala qui, nessuno sa bene com'è governata l'Europa, la comunità europea. La comunità europea, c'è un Parlamento europeo, il Parlamento europeo si occupa di questioni per esempio umanitarie e tutti i giornali pensano che la questione dei diritti umani sia la cosa più importante della Terra, se uno ha un po' di cultura giuridica, di attenzione politica, sa che i diritti umani servono soltanto a legittimare, autorizzare l'intervento armato delle grandi potenze dove vogliono. Questo sono i diritti umani, i diritti umani oggi sono usati perché le grandi potenze possono bombardare un tale posto inventando che c'è stata qualche cosa contro i diritti umani. Tanto i giornali lo scrivono. E questa è la situazione. europea. E quanto è l'Europa che è governata l'Europa? Il Parlamento non governa assolutamente l'Europa, la gente crede che sia come l'Europa, non è mai la legge che governa. L'Europa è governata da commissioni, le quali commissioni sono formate per metà dai rappresentanti delle grandi industrie del settore. A metà, immaginate, metà significa tutto, perché se già ci sono con le lobby la metà significa tutto. Io sono stato invitato una volta a una commissione che doveva valutare le misure di sicurezza, una commissione che non contava nulla, solo etica, consultiva. E mi hanno detto, mi hanno spiegato che quelli che decidono le misure di sicurezza, per esempio quelle che quando siamo entrati qui, queste sono fatte dalle grandi industrie di armi, le quali industrie di armi si sono convertite a questo affare, a questo grande business che oggi è in Europa, le misure di sicurezza. L'Europa però è tornata così, quindi anche poi se noterete in futuro che per esempio il livello non potrete più sapere da dove vengono i cibi che voi comprate, perché appunto queste commissioni hanno deciso che non si deve più mettere d'ora in poi da dove proviene il cibo, dove mangiate, eccetera, eccetera, perché appunto sono formate per metà dai grandi industrie. però adesso basta di queste cose doiose e vediamo cose più interessanti. Per finire volevo tornareci alla domanda che mi ero posto all'inizio quando parlavo appunto di questo libro che per me è stato anche molto importante scrivere. Questa domanda che mi ero posto, vi ricordate a proposito di Chiaromonte, che cosa resta? Che cosa resta? Che cosa resta non soltanto di una vita, come diceva Chiaromonte, ma anche, non so che cosa resta delle cose a cui siamo abituati, a cui abbiamo finora identificato l'umano, tutte quelle cose che stanno però, che vediamo cambiare continuamente e velocemente sotto i nostri occhi, che cosa rimane di tutto questo? Di tutto questo che appunto sembra che sta velocemente scomparendo, o comunque trasformandosi, che cosa resta? Una volta un intervistatore che le chiedeva a proposito della sua giovinezza della Germania in cui era cresciuto, Ann Arendt, chiedeva, ma che cosa resta? Una splatica, che cosa resta? E Ann Arendt rispose, resta la lingua, e splatica dice, ma che resta solo la lingua, non resta altro, resta la lingua. E io volevo un po' riflettere con voi, che cosa significa quando resta solo la lingua? Che cos'è una lingua che resta? Cioè resta significa che invece il mondo a cui dà l'espressione sembra non esserci più. Che cos'è una lingua che resta? Che cos'è una lingua come il resto? Vorrei un po' provare a riflettere su questo. Che cosa possiamo dire in una simile lingua, appunto, nel cui mondo invece si sta trasformando? Una lingua che sembra quasi che non ha più nulla da dire, no? Perché appunto se tutto ciò a cui questa lingua dava forma e espressione sta o scomparendo o comunque trasformandosi, che cosa può dire questa lingua che resta? E che cosa è? Che cos'è questa lingua? E io, insomma, mi dovrebbe rispondere che questa lingua che resta è la lingua della poesia. Che cos'è infatti la lingua della poesia se non quello che resta, quello che sopravvive di una lingua quando sono disattivate, neutralizzate progressivamente tutte le normali funzioni comunicative, informazionali, tutte le parti. La poesia è quello che resta quando queste normali funzioni comunicative, quotidiane, sono un po' sospese, naturalizzate.